delle trasportati alle spalle dei nemici oh finalmente che non ce l'avevamo confermato perfetto perfetto salve e bentornati su gamehug con l'ottava puntata su HOB e iniziamo la puntata alla grande iniziamo la puntata alla grande con dei punti io direi che possiamo andare finalmente a potenziarci assolutamente farei questa cosa vediamo se mi ritrovo la strada però eccoci qui eccoci qui potenziamenti vediamo un po' che c'è un potente attacco in scatto e potremmo farlo delle trasportati alle spalle dei nemici oh finalmente che non ce l'avevamo confermato perfetto perfetto fantastico potente attacco in scatto potremmo fare ok e io non lo voglio più velocità ma meno salute di energia tra l'altro non potrei prenderlo perché non ho né 100 di punti né 8 di quelle cose strane che ce n'ho solo una non so dove si trovino dove si troveranno mai va bene un potente attacco in scatto lo facciamo si ok proviamo a fare questo attacco in scatto vediamo come va ok così perfetto ok ho messo il primo pezzo di spada ma me ne mancano due oh ok bene buono buono quanti punti una decina penso buono buono ok 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 questo è un posto nuovo ok si sale va bene poi dove si va dove si va dove si va ok sali sali altri nemici quindi per ora i robottoni li abbiamo lasciati lì penso che forse non li incontreremo dal vivo semplicemente era per capire che da dove vengono vengono cioè sono sono i lavoratori di questo posto e io invece dovrei essere uno degli abitanti come quelli da cui estraiamo di solito pezzi di spada ok 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 poi si va qui oh mamma mia volevi volevi farmi male e invece invece ti faccio male io esatto sconfitto perfetto allora carini carini ok ok questo è tutto da spostare fare un casino un casino andiamo qui uccidiamo subito questi schifi qui ok quelli esplodono da soli questa morte è già di suo no ok ok ah eccoti eccoti no mi ha tolto un pezzo di vita una parte di vita me l'ha tolta ah me la vado a riprendere qua sotto ok no perfetto non è servito scendere ma dobbiamo scendere lo stesso ok va bene niente saliamo 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 qui non si apre ok bello complesso quello che ci attende ci attende davvero qualcosa di immenso ok altri punti e va bene però dove dobbiamo andare forse qui ok ok e che pizza sempre che becco le piante le piante che fanno male qua è un teletrasporto si ok e poi ancora 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 almeno la vita perfetto ahio ha tolto 3 caspita no tu non mi fai niente hai capito non mi uccidi non ce la farai no uccidetevi da soli uccidetevi da soli scusate uccidetevi da soli scusate ok questo l'ho ucciso ok no 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 ufff mamma mia prendiamo la vita prendiamo la vita vai uuuu incredibile bello prima di andare lì però vorrei controllare un po' qui ad esempio qui che c'è ok una strada rapida perfetto vedete ragazzi si può entrare qui dentro però lo facciamo dopo perché c'è molto molto da esplorare qui uuuu vediamo qui vediamo qui ok a che serve ok 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 si sale sono bene 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 ok uuuu ok adesso abbiamo una cosa in più mi sa qui vediamo si due infatti di queste cose dorate ok vediamo se si teletrasporta dietro aspetta ok 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 vai ottimo le tarte rughe uuuu carine ok no 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 tu non mi fai male no aio va bene va bene così torno a quattro di vita torno a quattro di vita che non è male e come faccio a salire qui sopra ecco qui saliamo saliamo ok e ok perfetto cosa ci darà mai vediamo un po' uuuu punti 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 ok vieni vieni no ma lo scudo para il teletrasporto ok ok si scende qui si va verso l'ignoto attenzione ok ok lo salvataggio buono si può scendere oppure saliamo ok ok aio una vita una vita fantastico fantastico bene così ci serviva proprio ah bene bene qua arriva questo perfetto ok ok poi qui che fa aumenta l'acqua vediamo un po' no ok altro salvataggio bene 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 non cadere bene 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 ok una mossa vediamo schianto a terra schianto a terra che le spinge nemici fantastico ragazzi quando la quando la compreremo sarà sarà super ok vai uh bene 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 vai 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 ok ragazzi uh beh bene 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 spero che la puntata sia venuta abbastanza lunga ragazzi non vi faccio vedere quello che succede adesso perchè tutto un mistero e noi ci vediamo come sempre venerdì prossimo un'altra puntata su ob e martedì con un altro video mille mille likes a tutti e